Il primo piano Molise C'è la politica e il senatore Di Marzio verso l'addio, bye bye 5 stelle, il direttore sanitario del Cardarelli vuote il sacco, mi chiesero di candidarmi a Cettai per risolvere i problemi del paese e mi ritrovo a pigiare i tasti per decisioni assunte da altri. Nel movimento è impedita qualsiasi forma di dissenso, chi lo fa finisce sotto attacco caso rimborsi docet. L'editoriale affirma di Luca Colella, meno odio e più amore e salviamo il Molise. A centro pagina invece Leonardo Tuono che batte tutti e lui il primo nato del 2020 ha visto la luce al veneziale poco dopo la mezzanotte, Divinne e Diletta inaugurano l'anno al San Timotio. La giunta Tomani conferma 4 su 5 fuori Gian Russo, capi Dipartimento, Mogavero, Pillarella, Iocca e Gallo. La salute restano in carica, Brasiello la new entry, sisma 2018 prorogata l'emergenza, manca però il commissario. Campodanno, tuffi nel Volturno e nell'Adriatico, piazze piene e mai tunate rispettata la tradizione. Agnone, Marco Vecchio tira dritto, varato il nuovo esecutivo dentro un esterno. Venafro torna all'incubo furti, coppia, trova i ladri in giardino, malviventi invece in azione pure a Toro. Campobasso che è al bilancio entro il 31 dicembre, è la prima volta, Tomaro al vertice della SEA. Salcito, follia nella notte, 37 anni investito con l'auto dopo il litigio, fermati un uomo e una donna. Poi c'è lo sport con il Campobasso, l'obiettivo è di mezzare lo svantaggio sul notaresco in due partite. Agnonese per i Granata, Out, Ciampi e Frabotta nella gara di Montegiorgio. Sport virtuali, la LND ospiterà Ripa Limosani il campionato regionale. Il Cus Molise festeggia il traguardo dei 30 anni. Ora invece le testate nazionali, il messaggero, autostrade frenata sulla revoca. Di Maio accelera l'altolà dei trasporti. Aspi dopo il crollo, in due mesi verifiche nelle gallerie. Mattarella, serve più fiducia a ridurre il divario nord-sud. Paragone espulso dal movimento. Visto dal colle, la svolta pop nel paese che va riequilibrato. L'intervista alla Meloni, il governo cadrà anche senza i cambi di casacca. A centropagina questa immagine che ieri ha fatto un po' il giro di tutte le tv nazionali. E sono gli schiaffetti del Papa, la fedele Papa, che poi si scusa e dice anche io perdo la pazienza. Bergoglio era stato strattonato da questa fedele e quindi ha poi assestato uno schiaffetto sulla mano della donna. Di scarica si cambia il dietro front di Raggi che smentisce Grillo. Il nuovo impianto si farà vicino a Malagrotta, nella zona che i 5 Stelle volevano risanare. Rigopiano, indagato, un ufficiale dell'arma dei carabinieri. L'allarme è partito in ritardo. Pietro, dal PM, era verde. Non le ho viste il dramma di Corso Francia. Oggi l'interrogatorio di Genovese Junior. Il Corriere della Sera, Autostrade, si riapre il caso. Mattarella, seguito da 10 milioni su TV e web, fiducia nel paese e nei giovani. Di Maio ora la revoca delle concessioni, ma il sottosegretario PD Margiotta dice vicenda delicata. Parla Riccardo Muti, dalla scala Napoli Tour nell'Italia, che amo. Australia, in fiamme, fuga verso il mare. 18 sono già le vittime, migliaia invece le persone accampate in spiaggia. Il Papa, strattonato, perde la pazienza e poi chiede scusa. Schiaffetti sulla mano di una fedele. Andiamo su Repubblica 2020, il manifesto della giovane Italia. Grande eco per il messaggio di Mattarella alla Nazione, l'accento è sulle nuove generazioni che hanno capito le sfide dell'ambiente e della globalizzazione. La politica deve tenere viva la speranza. Il leader leghista, discorso, mellifluo. Berlusconi, non mollo la guida di Forza Italia, sarò il garante di Salvini in Europa. Irritato da una fedele, il Papa dice scusate se anche io perdo la pazienza. A Tokyo invece è già Olimpiade, reportage dal Giappone. Lo show del megastadio anticipa i giochi di luglio. Sull'ultimo anello una foresta con vista sulla città. Il sole 24 ore pubblico, impiego, 60.000 assunzioni in più nel triennio. Manovra, mille proroghe e decreto fiscale aumentano l'organico netto della pubblica amministrazione. La legge di bilancio sblocca anche il 100% del turnover. Restano aperti i 160 tavoli di crisi, in gioco 200.000 posti, 60.000 sono a rischio. Il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Mattarella, l'Italia deve imparare a credere in se stessa. Cuneo fiscale, nel decreto tre vie per aumentare le retribuzioni nette. IVA forfettare il no al cumulo con i redditi da dipendente. Youtuber da 10.000 euro al mese, il lavoro da influencer dei videogiochi autostrade. Ora l'ANAS chiede lo scudo penale. Andiamo in chiusura con la gazzetta dello Sport. Reazione Inter in apertura. Via a un supermercato scontro tra Bianconeri e Conte. Subito Vidal e in estate il sogno Ericsson. Juve, oggi firma Kulusevski. Marotta studia la rivincita dopo la beffa di fine anno. Se parte Politano, chiese tonali gli altri fronti aperti. Ibradei, Zlatanbis lo sbarco. Una scossa per il Milan. Befanashu a San Siro. Parla Capello, attento Sarri. Col Cileno e Nero Azzurri sono da Scudetto. Prima di salutarci, vediamo quali sono i programmi che andranno in onda oggi sulla nostra rete. A partire dalle 11, Paese Mio, 12.30, Viva la Musica. Alle 14, il Tg. Alle 16, Punto Verde, 17.30, Camminando Molise. Alle 19, Rotocalco. 19.30, Torno all'Informazione. Alle 21, Molise Sport. Alle 23, l'ultimo appuntamento con il telegiornale. È tutto anche per questa mattina. Grazie, come sempre, per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie.